E' un uomo disparato con questa uccellina d'aria compressa, l'uomo con l'aria corregolare permesso di soggiorno, dopo essere stato medicato in ospedale, ha raccontato tutto ai paradigmi del tempo Proveco, a quelli di guardare le stessane di più di un bel umano, Grazie a tutti. 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 Andando nel futuro. Grazie a tutti.